Gianni Bio è l'acronimo di Giovanni, Andrea e Nicola. Siamo tre amici, imprenditori, innamorati del mondo del biologico. Gianni Bio è la realtà che ha già aperto 5 punti vendita a Bolzano. Vogliamo rappresentare un punto di incontro per persone e idee, allontanandoci dal concetto di semplice negozio, per favorire le relazioni e costruire insieme alla nostra clientela una community dove produttori e consumatori condividono gli stessi valori. Il fatturato raggiunto in tre anni è pari a 1.360.000 euro, non più 26% nel solo mese di marzo 2023. La crescita del fatturato B2B è del 312% negli ultimi due anni e abbiamo risparmiato oltre 10.000 imballaggi di plastica nel 2022. La sostenibilità è il cuore pulsante del nostro modello di business. Dai prodotti ai produttori, valorizziamo la qualità e il rispetto del territorio. Oggi puoi scegliere di essere parte attiva di questo cambiamento sostenendo la nostra campagna di crowdfunding. Fai adesso la differenza, sii differente. Grazie. 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 Grazie.